Domani, mercoledì 25 novembre alle 16, si riunirà la quinta commissione del Comune di Alghero, convocata dal presidente Cristian Mulas. All'ordine del giorno, l'analisi della concessione dell'impianto di acquacoltura nello specchio aqueo antistante il Forte della Maddalenetta. All'incontro parteciperanno in collegamento telematico gli assessori Andrea Montis, Giorgia Vaccaro, Marco Di Gangi, il dirigente del settore Michele Fois, il comandante della Capitaneria di Porto di Alghero, Pier Claudio Moscogiuri, i rappresentanti della LIPU, del WWF e di Legambiente, l'Associazione di Imprese dei Balneari in Prema, i rappresentanti di FIBA Confesercenti, dell'Associazione Wind North Shore, del Comitato la Maddalenetta e della Società Cooperativa Vivarium. Un incontro dunque che coinvolge tutte le parti interessate. In primo piano c'è sempre la valorizzazione e il sostegno all'imprenditoria che soffre più che mai a causa dell'emergenza, sostiene il presidente della commissione Mulas. Ma al contempo dobbiamo tener conto delle istanze della comunità e delle attività sportive che nel nostro territorio trovano l'ambiente ideale.